Dal paese di Bosco di Sotto, quel paese lì, la fantasia della famiglia Povironica, lì Povironica. Ah, no, ma lei non è però della famiglia Povironica. Sì, sì, io prendo tutti, quando danno i canelli prendo i canelli. Lei, padre, viene da Varese, eh? Da Varese, ma noi a Tortellini è anche Calciagatti che c'è qua. Ah, sì? Mangiamo tutto, quindi va bene, siamo anche modelesi volendo. Allora, cosa ne pensi di questo viaggetto? Che incredibile, alla fine ci vale un sacco di tempo, però ne vale sempre la pena, perché rimanere a Varese non è proprio così che ci manca. Non l'aveva mai vista lei in Modena, eh? Sì, bene, bene, ma magari c'è poco caos adesso perché forse tutti si preparano per oggi pomeriggio. Sicuramente. Allora adesso c'è poco, poco movimento. Eh, allora adesso padre, anzi Don Germini, caro, andiamo a vedere il centro di Modena. Sì, sì. Ho fatto, praticamente, ho letto Polenta con i fagioli, se non sbaglio. Eh no, non si può fare con i fagioli però. Ah, piuttosto, Don Germini, ha portato il serpente. Il? Il serpente. Sì, ha tutto. Anche il suo di serpente ha portato? Ho quale, ho quale, ho tutto l'ambaradano, tutto, tutto. Hai visto il Don Germini a Modena? Ho tutto ciò che serve. Com'è questo giro? Ho tutto ciò che serve. Sì, picchia. Ah, bello, bravo, bravo, bravo. Grazie, Don Germini. Le comprate a Napoli questi qua. Eh, è vero che lei è stata anche a Napoli, eh? Sì, sono andato anche a Napoli. Eh, ragazzi, ma io posso mancare da qualche parte. Bisogna viaggiare nella vita perché tanto così, no? Abbiamo qualcosa da fare di importante. Andiamo al giardino adesso a fare un po' di scene. Volevo riuscire al mattino, siccome al pomeriggio c'era spilata, volevo riuscire a fare un po' di scene vestito da parro col giardino. Va bene, ok, ci sentiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.